La Giunta d'Anna rivoluziona il servizio idrico e con la delibera numero 23 del 2018 ha approvato l'aggiornamento tariffario e la rimodulazione delle fasce delle tariffe idriche. Abbiamo fatto una ricognizione dei costi, spiega il sindaco Angelo D'Anna, sia dell'acqua che acquistiamo che di quella che tiriamo dai nostri pozzi che comporta un costo di energia elettrica. Abbiamo determinato quindi un piano economico finanziario necessario per supportare la gestione del servizio. Questo potrebbe comportare in prima battuta per i cittadini una piccola lievitazione dei costi, anche se poi la tariffa farà in modo che chi consuma di più paghi di più e chi consuma di meno paghi di meno. In parallelo adotteremo una serie di iniziative per contrastare l'evasione. A Giara il servizio acquedotto ha un costo anno di 2.114.000 euro circa, che include l'acquisto di acqua da terzi, l'energia elettrica dell'acquedotto, la manutenzione ordinaria e le spese generali. La fognatura ha un costo di 190.000 euro annui, mentre il servizio di depurazione costa 682.000 euro. In un primo momento, aggiunge il sindaco, chiederemo alla cittadinanza di farsi parte attiva per regolarizzare le proprie posizioni. Di seguito individueremo delle azioni di controllo mirato. Più si allarga la massa di coloro che vengono chiamati a contribuire al pagamento dei costi, meno si pagherà. Il Comune è indietro nell'invio dei bollettini riguardanti il servizio idrico e la depurazione e ha necessità di recuperare. Quando ci siamo insediati, ricorda Danna, eravamo fermi al 2011 per quanto riguarda la depurazione e al 2013 per quanto riguarda il canone idrico. Oggi per la depurazione abbiamo già inviato il 2014. Mancano gli anni 2015-2017 e ora 2018. Per il servizio idrico, l'ultimo bollettino spedito è relativo al 2016. L'idea della tariffa dovrebbe comportare anche una riunificazione del costo dell'acqua e della depurazione. Ci sono anche delle novità a favore dei cittadini. È prevista una carta dei servizi in favore dell'utente. L'ente deve garantire determinati servizi, altrimenti gli utenti potranno chiedere dei risarcimenti. Quest'anno potrebbero quindi arrivare ai già resi più bollettini di pagamento, bollettini che dovevano arrivare negli anni passati, ma il rischio che si corre in questi casi è che poi la gente non paghi. In proposito, il sindaco Danna spiega che priorità sarà mandare la bollettazione relativa al presente, stando attenti a non fare andare in prescrizione i tributi che dovevano essere richiesti negli anni passati.